Ora leggeremo ovviamente il testo, ma è un altro grande pericoloso pasticcio, se non altro perché a parole non si tocca la funzione, la figura del Presidente della Repubblica, ma si apre una stagione nella quale avremmo un Premier eletto direttamente dai cittadini e un Presidente con gli stessi poteri mai eletto dal Parlamento. E questo oggettivamente, addirittura al di là delle opinioni politiche, aprirebbe la strada a un conflitto, al rischio di un conflitto permanente. Come sul federalismo sono cose che servono più alla destra per essere unita che non all'Italia per essere più forte.